Ciao belli miei, ben ritrovati all'interno di questo nuovo video, Vapor Contadino torna, il Vapor Contadino ogni tanto torna, stanno un po' mancando video dei dei, ne sono totalmente consapevole, c'è StumbleGuys che sta spingendo come un dragone, quindi capite che ci sono delle priorità, attualmente la priorità sta su StumbleGuys, nonostante questo l'appuntamento settimanale col settimo episodio della rubrica Vota delle Fattorie degli Abbonati, eccoci qua, siamo qua, per questo vi ricordo, iscrizione al canale fondamentale 13 590, mi raccomando entrate e attivate la campanella all'interno della nostra community che si sta avvicinando sempre di più ai 15k iscritti che sono un po' il nostro obiettivo. Ti ricordo, dato che oggi il video sta inerente agli abbonati, se vuoi partecipare a questa serie di video ti basta essere abbonato 99 centesimi, oppure hai l'opportunità di farlo gratuitamente con Amazon Prime, come? Ti lascio il link qua sotto per tutti i dettagli. Mi raccomando, passa su TikTok e Instagram perché carico robe in particolari e non perdiamoci in chiacchiere perché heyday, 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 come sta andando la fattoria? Male, ok? Io non sto giocando, ve lo dico proprio chiaramente, l'ho totalmente accantonato dalla mia routine gaming, mentre ho implementato molto StumbleGuys, ok? StumbleGuys lo reputo un gioco che attualmente è molto fresco, mi diverte, mi piace scalare, c'è il sistema coppe, c'è il sistema non coppe, secondo me ha del buon potenziale per l'estate, dato che questi giochi qua, che sono molto molto rapidi, solitamente in estate spingono abbastanza. Vedo che la community lo apprezza qua all'interno del mio canale, quindi qual è la motivazione per la quale io non lo dovrei portare? E sostanzialmente non esistente, come vedete ormai abbiamo finito praticamente tutte le nostre risorse all'interno del nostro villaggino, approfitto comunque della situazione per andare a sbloccare una ruotellina qua al volo e via. Cerchiamo di capire un attimo cosa ci capita all'interno di questa ruota perché sarei veramente curioso di saperlo. Ok, ticket rosa ti posso dire non male, gelatino, vedete che anche il nostro clan è un po' immorente, se qualcuno vuole entrare il clan in questione e i maiali del VAP, mi raccomando entrate, livello 50 e ragazzi entrate alla grande. Adesso andiamo a vedere un po' di fattoria degli abbonati perché è effettivamente il contenuto principale del video e la prima fattoria che andiamo a registrare è la fattoria del buon Rockstar. Rockstar è un mio abbonato del canale, ha una fattoria, ve lo dico già, che mi piace veramente tanto. L'ho già vista, è una fattoria nella quale noi abbiamo vari alberi, abbiamo varie decorazioni, insomma in realtà è molto bella, ok? Non mi dispiace perché, a parte che contiene una cassetta quindi molto bene anche per questo, a me piace molto vedere gli alberi all'interno delle fattorie, le decorazioni, questo muretto è molto molto bello, questi barirozzi sono molto molto belli. In realtà è proprio fatta bene la fattoria, anche la decorazione con l'arredatrice di Maggie non è fatta male, il camion modificabile, insomma l'unica prova che potrebbe far abbassare un po' il voto sono gli animali che andiamo subito a controllare perché sapete che sono curioso. Drux, asino del... allora mi devo un attimo dissociare dai nomi degli animali, questo ti fa perdere il 10, quindi un 9,5 per il buon Rockstar. Passiamo subito alle prossime fattorie perché ce ne sono un sacco da andare a votare, le prossime sono quelle del... abbiamo la buona fattoria del Nuxus, ok? La Nuxus Vinci Farm è una fattoria particolare perché in realtà ha del buon potenziale con delle mucche, dei maialini, delle pecore tutte decorate con le robe del pass, quello che però non mi piace è la distribuzione poco ordinata della parte sottostante della fattoria, preferirei un qualcosa di più ordinato, magari un'unione di questi... a gruppi di questi edifici di produzione, sinceramente ho visto di meglio, purtroppo è un po' bocciatina questa cosa qua. Nonostante questo comunque le fonderie sono fatte bene, un 7,5 te lo prendi senza troppi problemi. Fattoria del buon Samu Nye Nye, ok? Samu Nye Nye, Nye Nye Nye, Nye Nye Nye, Nye Nye Nye, Nye Nye Nye, ha una fattoria particolare perché ha delle decorazioni particolari che diciamo creano un po' tutto quell'ambiente che a me piace molto. Devo dire che anche questo ambientino qua che si è fatto qua sotto, eh eh. Samu Nye Nye ha veramente una bella fattoria, devo dire che anche la distribuzione delle macchine da produzione non è fatta troppo male, poteva essere fatto qualcosina di meglio, assolutamente sì, però in linea di massima le varie modifiche che sono state fatte attraverso l'arredatrice, attraverso il camioncino, attraverso la bancarella, piacciono a me, piacciono particolarmente. Anche questa decorazione fatta in legno con i mattoni crea con un trasto ed è bella da vedere. L'ultima prova sono gli animali che sono jeep, sono bike, in realtà sono anche nomi interessanti, non mi dispiacciono in realtà questi... Oh, attenzione, me lo... bella fattoria, bella fattoria, questa qua mi sa che si aggiudica il 10, Samu Nye Nyu 10, da un po' che non davo un 10 all'interno del video del voto alle fattorie, questo qua ragazzi è effettivamente un 10. Attenzione perché abbiamo una grande fattoria, quella del Raven, Raven è un ragazzo che mi segue da un botto di tempo, è una fattoria a livello 39, quindi non male e... Devo dire, parte superiore con i campi non mi dispiace, parte sottostante, alberi marci dovrebbero essere assolutamente rimossi, comunque questi due muretti di pietra in realtà si possono anche tenere, nomi degli animali, brownie, piche, molto belli questi nomi che c'è degli animali, è molto disordinata, però in realtà alcune particolari c'è gli acarucci. Un 8, un 8 secondo me è la via di mezzo tra il discreto, il distinto, ok, e un buon voto, quindi un misto tra un 7 e un 9 per me, e un 8 questa fattoria qua, molto molto bene. Finisco il video andando un attimo a vedere cosa succede all'interno della nostra città perché l'abbiamo un attimo accantonata e abbiamo un po' di punti reputazione, abbiamo un po' di missioni che dobbiamo finire ma che non stiamo più facendo. All'interno della nostra fattoria abbiamo il nostro grandissimo Alexuni, il nostro grandissimo elefantino che sta un attimo bello occupato e senza poco da mangiare e stiamo cercando di collezionare pezzi del puzzle per andare effettivamente poi a sbloccare nuovi animali perché vi ricordo, ho già fatto comunque un video a riguardo, c'è l'opportunità di ottenere dei vari animali con i pezzi del puzzle, insomma robe particolari. Adesso qui abbiamo i grandi nostri fattoriez che li mettiamo qua dentro nel negozio alimentare, questo qua vuole il cocco, diamoglielo subito che almeno non abbiamo troppi problemi. All'interno qua abbiamo venduto un po' di cose, un po' di patate, un po' di fragoli, insomma un po' di robetti, in realtà l'abbiamo fatta. E insomma una fattoria che tiene un po' il suo passo ma fino ad un certo punto, ecco potrei far sicuramente di meglio. Il video del voto alle fattorie, episodio numero 7 termina qua, spero che vi sia piaciuto, come al solito vi ricordo tutti gli appuntamenti per il voto alle fattorie sono il mercoledì e il giovedì, viene alternato. Se non vi siete ancora iscritti al canale ragazzi, forcaccia la bislacca, dovete assolutamente droppare un'iscrizione adesso. L'avete fatto? Non l'avete fatto? Non lo so, spero di sì perché veramente manca poco e io voglio arrivare a questi 15k iscritti. Attivate la campanella, condividete il video con i vostri amici, fate un po' di robe particolari, insomma vi voglio nella casa, vi voglio. Passate ancora qua sotto, vi ricordo gli appuntamenti, domani alle 14, nuovo video qua sul canale, purtroppo oggi pomeriggio non ci sarò in live perché sono a Napoli. Se vi siete persi i vecchi video di idea li trovate qua in alto, passateci. Ciao belli! Ciao belli!